salve a tutti ragazzi eccoci siamo ancora qui su edge facciamo una seduta intensiva sopra edge cercando di finirlo e più che altro perché vorrei portare anche broforce sul canale c'è stato un piccolo problema con i salvataggi ovvero devo rifarmi tutto quanto da capo erano 44 livelli sapete voi non vuol tutta questa vol voglia e no bastardi ecco no no e quindi lentamente recupererò i livelli persi molto lentamente perché hanno introdotto nuovi personaggi altri nuovi personaggi perché stanno introducendo sempre tantissima roba e io ne sono contento perché un gioco personalmente mi piace il bruchetto e quindi più roba nuova c'è più mi piace a me è rima bu non lo so no concentrazione ecco e vabbè finiamo il livello affa frega freghiamoci di tutto abbiamo lasciato tutto dietro ma non ci importa com'è orion bella sta musica mi attira proprio nel morire come ti vedi infatti andiamo andiamo che bello mi hanno creato tanti bei piccoli punti e adesso salto di fede sempre più in alto vai fatti sempre più in alto giochiamo a tetris stiamo giocando a 3 tetris non è più edge eh con un po' di reattività per favore oh guarda il bel portone no fa il culo è andata ok ok preciso è andata è andata in data in data Perché? Alto tradimento è stato No, l'avevo preso Eh, infatti Queste morti idiote proprio Mi ha accompagnato gentilmente fuori Andiamo avanti Try again Ah, ho capito Ho capito Ma se quello rimane là tipo Si, rimane l'ariman Non ci fa niente Un 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 Quindi io dovrei farlo arrivare fino qui E poi essere più veloce di lui Ecco, è andata, non so come ma è andata Ok Che cosa sta succedendo, cammino pure nel vuoto Cammino nel vuoto, va bene È andata, è andata, è andata È andata Prendiamo questo È tutto un pigia pigia Dai No, di qua No Così a tradimento Mi cacciano a tradimento proprio E noi facciamo il giro perché ci siamo offesi Bene, andiamo avanti Ah, no Va bene Sono diventato una palla di ping pong Però va bene Ok È molto veloce come livello Vediamo un attimo Insomma O perlomeno quella base andava molto velocemente È andata È andata È andata È andata Nooo È andata Un gratin Un gratin E adesso? No. Ok. Ci vuole un attimo di concentrazione ogni tanto. Via e vai. Adesso ho paura di quello che... No. Niente di brutto. Pensavo facessero succedere questo e l'altro mondo. E dai sali. Però. Pensavo di morire più volte. Ok. Ultimo livello del giorno. Che parte già in modo molto... Aggressivo. E che appunto. No. Affanculo. Ecco. Un, due, tre, vai! Non so se erano quelli veramente i tempi, ma non ci fa niente. Ecco il punto. Fai le cose più difficili e muori sulle cazzate. Ok. Non parlo più. Che cavolo. No È troppo veloce Non pensavo che ripartissi a schizzo Invece va piano adesso Eh dopo accelera E quindi Ahia Mi sono fatto fregare come un coglione Via Sì Cosa Ma che Che è diventato l'Assassin Creed I salti della fede Incondizionati proprio Eh Va bene È un tamburo È impossibile passarci Ma che cosa È velocissimo Vai Dai Via È folle La conclusione è pazzesca Fa paura E Su questo bel finale Io mi ritengo soddisfatto Possiamo chiudere il video Ehm Sono morto dieci volte Che è un numero un po' abnorme Però non importa Vi invito come sempre A mettere un mi piace Condividere A commentare A iscrivervi al canale Se non siete già iscritti E Al prossimo appuntamento Qui con Ciao raga Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti